Oggi che non voglio inizierlo sola, eh? No, tranquilla, arrivo in orario. Mi raccomando, ricordati il nome del programma Just Chatting e si inizia sempre alle ore 18. Oh bella, comunque c'è già il mio grassi via, facciamo tipo una roba, e poi alla fine Just Chatting. Tipo. Oh, ma dopo la puntata ce lo facciamo, uno sprizza? Sì, però, questa volta offro i te. C'è stato un remix di Tappetino, sigla e me che cantavo sopra, ed it was gorgeous. Esatto. Ti ringrazio Alice perché mi hai fatto sbadigliare. Prego. Perché ho bisogno di rilassarmi in questo momento. Oddio. No, 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 non voglio parlare della partita, te l'ho detto. Quale partita? Assolutamente nessuna partita. Sto bene, ti ho detto che sto bene Alice, e ce la smetti di mettermi ansia. Buonasera a tutti, bentornati a Just Chatting, il programma più in orario del Pertini Radio, che per motivi più grandi di noi, per un bene maggiore, che è quello della... Badoria, sì. È iniziata leggermente in ritardo, ma siamo qua per una puntata che è a tema anche un po' con la giornata di oggi, e è a tema anche un po' con quello che abbiamo portato anche, faccio un po' di autospam, automarchetta, no, non si dice marchetta, che ora Alice poi mi sgrida. No, non è che ti sgrido, è che non ha il significato che tu pensi che abbia. Eh, ma io lo dico, si capisce. Quindi facciamo sicure di merda, perché non sappiamo le cose. Eh, ma noi le sappiamo le cose, vedremo, fino a un certo punto. No, non si capisce. Se io so che marchetta significa prostituzione, non associo marchetta al fatto che io vendo cose. Cioè, il modo in cui lo usavamo noi era sbagliato. Sbagliato. Sì, però si è capiva, ci hai capito. Eh, si è... Alice si è agitata un attimo, quindi coglierò l'occasione per salutare la nostra Sara in regia. Buonasera Sara. Buon day. Hai visto cosa faremo oggi, di che cosa parleremo oggi? Sì. Di che cosa parleremo oggi? Ce lo dici te? Sì, è la metro di Milano. È la metro di Milano. Specifichiamo... Quale metro? La rossa. No, la blu che è appena aperto. Qual è la metro milionieri di Milano? La viola. La lilla. Non mi piace dire quel colore. Lilla. Preferisco lilla. Eh, sì, no, infatti, ma poi è lilla. È lilla. È sempre chiamata la viola. Eh, tu sbagli. Eh, la lilla. Eh, sulla lilla va bene, io ho sempre sbagliato e l'ho sempre chiamata viola. Vabbè, perché tu sei fuori di Milano. Qual è la metro peggiore? Anche tu. No, però mi passa la lilla. Per quello lo so. La lilla che è, tra l'altro, quella che passa più vicino. La peggiore. La rossa. La gialla. M3 gialla. No, la gialla no. La gialla ci sono cresciuta io. Non può essere peggiore. Ma dai che il giovedì tutti decidevano di... Ti puoi dire? Non lo so. Non so cosa vuoi dire, Sara, ho paura. Tutti. Io, per andare in accarea, mi apprendevo sempre la gialla. Tutti i giovedì, puntualmente, alle 9 del mattino, qualcuno decideva di camminare sui binari, lanciarsi. Ah, beh, sì, è vero. Sulla gialla un botto di gente si fa fuori. Sì, la gialla. Sceglievano la gialla. È vero, è vero. E non so perché ci mette di più poi a ristabilirsi. Sì, infatti. Sì, sì, sì. Bloccavano tutto. No, anche sulla rossa però, eh. No, quando salgo sulla rossa nessuno dice, eh no, aspettiamo l'ambulanza, capito? Io credo che la gialla dipende dai parametri di valutazione, però secondo me la gialla è sicuramente la più rumorosa. È incredibile il bordello che c'è, che è il caos che c'è sulla gialla. Secondo me è il rumore normale di metro. Sì, ma se vai nelle altre linee. La Lilla è silenziosa. Perché la Lilla non ha neanche l'autista. Sì, è bellissimo tra l'altro stare davanti la Lilla che vedi il tunnel e vai tipo, ti fai i trip mentali. Vabbè. Commento proprio da turista di Milano. Perché queste cose non le commenti quando sei di Milano perché sono cose normali. Tipo il Duomo non è più una figata. È vero. Anche se poi quando spunti dalla uscita centrale della rossa e lo vedi che è stampato nel cielo. Assolutamente no. Boh, non lo so. A me fa sempre... Sopravalutato. Sopravalutato un par di ciuffoli proprio. Sopravalutato da un'ediminano. Non è vero, è bellissimo il Duomo. È sottovalutato solo se sei turista. No, il Duomo è strabello. Il bello del Colosseo. Pensa che il Duomo è la... Scusate, mi si è scaricato il mio watch. È la cattedrale più grande d'Europa mi sembra di... Ci siete mai entrati? Sì. Una volta, tra l'altro. Io un bozzo di volte quando ero piccola. Sì. Tranne sopra, non sono mai andata sopra. Non sei mai andata sul tetto. No, perché costava troppo per la mia classe. Eh, si costa una decina di euro però andateci se non l'avete fatto. Andateci perché è davvero bello. È un po'... Soprattutto se c'è la bella giornata vedi tutto lo skyline con le alpi dietro. È suggestivo. Ebbene sì, l'avete... No, hai detto una cagata, mi spiace. Come? Il Duomo di Milano ha un volume lord di 440.000 metri quadrati mentre la Basilica di San Pietro in Vaticano... Ma è una basilica? Non è una cattedrale? No, io ho cercato. Cattedrale più grandi. Eh, ma in teoria... E proprio per quello... Cioè, sì, San Pietro è più grande però come cattedrale in teoria è più grande il Duomo. Cattedrale più grande d'Europa. Credo sia proprio il Duomo. Non vorrei dire una stupidina. È la cattedrale di Siviglia. Lo sapevi. Ah, è vero. È vero che pirla che è molto più grande. Vabbè, detto questa bagianata, la puntata di oggi sarà su Milano. Milano è un gran Milano. Sceglieremo un po' cosa ci piace e cosa non ci piace della nostra città che è nostra ad adozione, che noi arriviamo dalla provincia. E anche quello è un po' il discorso di oggi, no? Di te come l'hai sempre vissuta, Milano? Cioè, fin da bambina, quando ci andavi, l'hai sentita come la tua città o no? Assolutamente no. No? No, zero. Se è più una brianzola doc. Un popular opinion, le grandi città sono sottovalutate, sono sopravvalutate pure quelle. Secondo me è molto meglio vivere dove viviamo noi che viviamo a Milano. Su quello sono d'accordo. Uscire, perché devi farti lo sbattile e andare dall'altra parte di Milano quando c'hai i bar che sono molto più vicino a casa tua e sono tanto cute? Cioè, se hai bar carini vicino a casa tua. Noi fortunatamente, vivendo qua, avevamo qualche bar a Cusano, quindi Milano frequentavamo poco. Sì, è vero, crescendo qua, soprattutto per quello che fai da ragazzino, sì. Poi Milano offre una gamma forse più ampia di cose da fare, quindi davvero si può fare qualsiasi cosa, non tutto c'è qua in zona, tutto c'è a Milano, però c'è molte cose. E ma cosa non puoi fare qua che puoi fare a Milano? Beh, ci sono tante attività in più, tante serate diverse, ad esempio le discoteche qua in zona, quante ce ne sono? Poche, ma non è che vai così tante volte in discoteca da dire le faccio tutte in una settimana, capito? Eh, lo so, però ad esempio se tu vuoi andare a una serata, dico una stupidata, una serata agli 80, quelle le trovi a Milano. Vai a Magnolia che non è a Milano, Milano. Vabbè, no, beh, è Milano. E allora anche Affori è Milano e c'è il Legend Club, ma per Affori ho la Comasina, però la Comasina fa cagare che non la considerano Milano. E tu cosa consideri? Però c'è un bel McDonald in Comasina, ha un bel tetto. Sì, è vero. È bello il McDonald in Comasina. Sì, è da fuori, da fuori. Ma quale, Rubiconio o Comasina? Comasina. Ah, beh, sì, certo. È più bello quello di Comasina. Sai che sono andato per la prima volta, no, forse, no, credo fosse la prima volta al McDonald di Rubicone il weekend scorso. Eh, ma perché ci vai quando tu... Eh, no, non ci vado mai io. Ma scusami, no, quello di Comasina è verso la metro. Quello dove c'è l'ingresso è il metro. Quello di Rubicone è quello che torni da Milano e esce Rubicone. E vai sempre a Comasina? Sì, sì, faccio. Che sbatti ti fai? Esci tutto. Ah, esco su ad affo, rigiro a sinistra e sono arrivato. No, io andavo spesso. Sì. Sì, no. È più bello quello in cui... A parte che è sempre aperto poi, quindi... Ma anche Rubicone. Sì, cioè nel senso, in generale quel McDonald lì... Io non ho mai capito il fatto che abbiano messo due McDonald's lì, uno di fronte all'altro. È proprio come gli autogrill in superstrada, in autostrada... Ah, quando torni, quando vai. Esatto. Bene, abbiamo parlato di tutto ciò che c'è di importante a Milano. McDonald's di Comasina? No, però io l'ho sempre vissuta di più Milano e mi sono innamorato forse anche un po' della città. È per questo che tu volevi fare questa puntata e io no, ma non potevo dirti di no. Però sicuramente anche a Milano ci sono delle cose belle da fare. Ad esempio, cosa ti piace fare quando vai a Milano? Niente! Ma dai, ma non è vero! Ma secondo me è un posto come un altro, capito? Cioè, non è importante dove vai, ma con chi... Esci, è scontato, però è vero, è scontato. Però se vado a Milano con una persona che mi sta sul culo o una persona con cui mi diverto e vado alla birreria italiana con una persona che mi sta sul culo, una persona che mi sta simpatica, ovviamente vivo le esperienze in due modi completamente diversi, ma è importante con chi... Mi annoierei in entrambi i casi a Milano con quella che mi sta sul cazzo e mi diverto in entrambi i casi con la persona che mi sta simpatica. Cioè, a meno che tu non debba andare a fare quella commissione particolare che comunque puoi fare anche a Monza, puoi fare a Bergamo, puoi fare da tutte le parti, perché ci metti due ore ad andare a Milano Sud, André. Vabbè, a Milano Sud sì. Ci metti un bot ad andare a Milano Sud. E dove sono le cose fighe? Beh, in centro. Fighe, fighe, fighe? Beh, anche nella zona... E centro che cos'è? Definissimi figa? D'uomo? Eh, no, beh, dipende, no. Cioè, la parte figa di Milano, secondo me, è a Milano Sud. Ma dove? Non c'è niente a Milano Sud, scusa. Eh, tutto è quello di rilassare. Dove c'è Fondazione Prada, ci sono un botto di cose fighe là, fanno. Cioè, scusa, quella è la zona bella di Milano? Fanno molti più eventi a Milano Sud che a Milano Nord. Ma non è vero. Eh, ma la maggior parte degli eventi li fanno giù, eh. Cosa intendi per Milano Sud? Quando c'è la Fashion Week, quando c'è la Design Week, li fanno quasi tutti giù. Fanno un paio di eventi, su. Ma quella non è Milano Sud. Se tu Milano Sud mi intendi tipo via Tortona, via Savona, quella zona lì. È Milano Sud. Io la considero comunque Milano il centro. Cioè, nel senso, per me il centro racchiude il dentro la circonvalla. Ma no, il centro è Duomo e Cordusio. Eh, no, va bene. Ma guarda, ti arrivo fino a Castello. Oh, come sei generosa. Esagero. No, io come centro intendevo più un centro, appunto, ripeto, dentro la circonvalla. Secondo me è quello, anche perché è Milano. Due di circonvallazioni, quella interna è centro, quella esterna non è centro. Quella interna intendi quelli delle mura. Santa Sofia. Sono due circonvallazioni. Quella interna e quella esterna. Quella esterna è quella che arrivi da Maciacchini. Ok. Quella centro dove c'è Arco. Santa Sofia. Santa Sofia è la circonvallazione interna. Eh, dentro la circonvallazione interna cosa c'è? Arco, Duomo. Ok. Brera, Massimo. Sì, sì. E quella, cioè, Tortona è già molto fuori. Boh, io lo so, cioè, lo consideravo per me Milano, la Milano, se tu intendi quella Milano-Sud, vabbè, non è così importante la divisione. A parte che sono tre le circonvallazioni, in teoria, perché la tangenziale sarebbe un'altra circonvallazione. Ah, la tangenziale è la tangenziale. Eh, ok. Però è tangenziale. C'è la chiamata tangenziale. Sì, lo so. Però pensa che la circonvallazione interna, che è quella che dici te è dell'arco, così è, era quella che una volta segnava le mura cittadine. Prima, una volta le mura cittadine erano nella circonvallazione interna, tant'è che poi l'arco chiudeva, era una porta. E una storia interessante riguardo le porte di Milano, magari non lo sapevi, ma le porte di Milano si chiamano così. Perché ti portavano in quella direzione. In quella direzione. Sara, te lo sapevi questa cosa? Tant'è che porta romana è a sud. Porta Venezia, che è a est, ti portava a ovest. Porta Genova, che è a sud-ovest, ti portava di là. Bella storia. Anche porta ticinese, che è da quelle parti. Eh sì, vabbè, siamo anche vicini. Esatto, esatto. Vabbè, Sara, mi sa che in questa puntata, io volevo chiedere ad Alice quali erano magari i suoi posti preferiti a Milano, però qualche posto che ti piaccia a Milano c'è? Un locale? Quale, il tunnel, perché siamo legati emotivamente, però non è che sia il posto più bello che abbiamo mai visto. Beh, però... Ti direi l'hotel di Bulgaria in questo momento. Mamma mia, Alice. No, però so che tu esci con le tue amiche ogni tanto a isola. Sì, perché la mia amica abita lì, però se lei non abitasse lì non avrei ragione per andare in quei tre posti. Ok, quali sono questi tre posti? Via Borsisi. Via Borsieri. C'è una via. E cosa c'è in via Borsisi? Ah, ok, ok, quella zona lì. Siamo facendo pubblicità, go-go, a tutti. Vabbè, sono un po' di... Ma nel senso, quella zona di isola ti piace? È l'unica via che c'è a isola dove ci sono locali uno dopo l'altro, poi ci sono diversi locali anche in giro lì, però... Ma se fai tutti uguali i locali, gaga, cioè... Beh, sni. Uno vale l'altro, cioè non è che ti dico stasera ho voglia proprio di andare in quella birreria in via Borsieri a isola. Cioè, dipende. Non ho un locale che ti dico voglio fare questo. Non c'è un locale che preferisci su altri? Cioè, quindi uno vale l'altro? Sì, chi se ne frega. L'importante è che faccia lo sbagliato e fa tutto a posto. Ah, ok, va bene. Alice e le necessità. L'unico posto che avrebbe un... Ha un punto in più, è quello che c'è vicino a casa mia, che fa l'unico posto che fa la mia birra preferita. Ah, addirittura. Ovvero la triplo malto belga. Io la consiglio a tutti, è molto buona, ragazzi. Questo è ciò che mi sento di consigliarvi oggi, nel mio momento polimichetta. È vero, perché poi tu sei una bella birraiola. A te ti piace... Sì, a me piacciono le birre. Non mi piace Milano, mi piacciono le birre. Prego, Andrea, è il tuo momento. No, vabbè, però ad esempio, visto che ti piacciono le birre, ti consiglio il birrificio di Lambrate, sei mai stata? È buono? Sì, mi sai di sì. È buono. Lì ci sono un sacco di birre particolari, belle, buone anche. E tra l'altro, io mi ricordo, sono andato in... C'eri anche te, se non sbaglio, in Abruzzo, che siamo andati in questo posto, che facevano le birre, e c'erano le birre del birrificio Lambrate, mi sono sentito a casa. Però io, non lo so, io forse crescendo anche con il padre milanese, che poi non era di Milano Centro, era di Quartogiaro, però mi ha sempre fatto amare questa città. E poi so che te non sei una grande fan delle discoteche, mi ho perso di capirlo, quindi tu hai solo il tunnel, come discoteca di riferimento. E la Gorà. E la Gorà, ma la Gorà è qua, Cusano, non vale. Cioè, in senso, restiamo Milano, restiamone dentro la tangenziale, dentro... No, la discoteca non me la sento di aprire questo capitolo, quindi ti ho lasciato talmente carta bianca. No, perché ogni volta che sono andata a ballare, sono andata a ballare in un posto, non faremo il nome, io mi sono presentata con uno sbagliato in corpo. iniziando un po' a insultare la società. Ah, wow, sei andata tipo zio alle feste di Natale, polemico, briato. Sì, ero lì con Denver. Ah, il compleanno. Ciao, Save. Sì, salutiamo, è di là, però fa niente. E eravamo lì con loro, ero lì con loro, eravamo in coda, insomma, quei posti in cui devi pagare 25 euro se sei un uomo e 20, le donne, ma proprio non stanno, non vanno proprio giù e sono tutti così, la maggior parte delle discoteche commerciali che ci sono in giro. ho messo sul cazzo il fatto che io devo mettermi tacchi per entrare in discoteca, quindi io a prescindere non ho tacchi. Non ho tacchi. E anche se ce li avesse non li metterei. Non li metterei. No, forse un paio, sono stata obbligata a comprarli. Dalla società. Mamma. Mamma, mamma. Mamma, mamma. I posti commerciali sono rappresentati al massimo e io non li rispetto, quindi non frequento questi posti. Ma quel posto lì, fammi capire, ti faccio l'iniziale del posto squà, che è quello, ok, ho capito qual è. E tra l'altro c'è un altro locale qua in zona, cioè più verso nord, che è sulla Milano-Lecco, ok? Un locale a te molto caro, tra l'altro. Ci siamo andati, pure quelli, anche lì ho fatto proprio la simpatica, ti sei divertita. No, ho fatto la femminista estremista pure lì. Ah no, sì, perché? Sarcasticamente parlando, ragazzi, non prendete su serio quello che stiamo dicendo in questo momento, però io non trovo giusto che esistano questi posti, cioè non mi piacciono questi posti qua, quindi io evito di frequentarli, non mi piace la musica che c'è, non mi piace la gente che c'è, quindi io non ci vado. Su quello sono d'accordo, io posso raccontarti, cioè te lo sai già, lo racconto a chi ci ascolta, la mia esperienza in uno dei più celebri locali milanesi, di cui non farò il nome, ma davvero uno dei più big, famosi e conosciuti al mondo. L'Hollywood, esatto, ve lo dirò, tanto me ne frega niente, non ci entrerò mai più nella mia vita, ma perché davvero... Una bottiglia d'acqua a 10 euro in questi posti. Mi è rimasta qua, cioè mi è rimasta qua, ma perché è stata un'esperienza davvero, ero con amici che arrivavano dall'estero, erano lì solo un'occasione, dai andiamo a ballare, di giovedì sera, e già anche lì, vabbè, vai di giovedì sera all'Hollywood e faccio, raga, mi dovete trascinare dentro, cioè io 30 euro, 30 euro di giovedì sera, l'ingresso per andare all'Hollywood, entri in sto posto che è... Ma perché proprio l'Hollywood? Perché eravamo in... Ma perché questi erano stranieri, e quindi abbiamo visto la prima discoteca che hanno visto è stata l'Hollywood. No, più che altro l'unica aperta di giovedì. No, ma sono tutte aperte di giovedì. Sono tutte aperte di giovedì. No, se non sbaglio quella sera lì ce ne erano poche aperte, forse era ancora post-pandemia, quindi non era tutto pienissimo. E andiamo a sto Hollywood, io non ci ero mai entrato prima, e onestamente c'è spendere 30 euro per entrare in quel buco di posto, perché è un buco oggettivamente, per ascoltare musica che come diceva giustamente Alice poco fa, puoi ascoltare in 30 locali diversi a Milano. Non l'ho detto. L'ho pensato, ma non l'ho detto. No, l'hai detto prima, ascoltare quella musica lì che si sente in quei posti lì, non mi piace. No, io ho detto che in generale quei posti lì non mi piacciono, non mi piace la gente che li frequenta, non mi piace il dress code che devi avere, non mi piace il concept sociale che c'è dietro, ovvero uomo paga di più, donna paga di meno, dobbiamo avere braccialetti di due colori diversi, Sara ti sembra? Io sono andata a una cazza di discoteca, avevo un braccialetto rosa e lui ce l'aveva blu. Ebbè. Io lo volevo blu magari. Infatti, quello è... No, questa cosa a me non è mai successa. Madonna mia, ma è sempre, è per questo che ho un odio nei confronti di questi posti. No, sì, lì... Ci vado solo se è all'aperto la discoteca. Io ho sempre avuto tutti uguali il braccialetto. E se c'è la testa era arci? No, sapete cosa mi è successo una volta? In una discoteca, cioè piccolina... Sara frequenta Milano di più. Piccolina, penso sia sconosciuto a questo posto, praticamente fanno il timbro, ok? Il timbro è invisibile. Ma che cazzo? Quelli che va con la fotocamera, non con la torcia. Sì. Mi era mai successo e mi ha raccontato il tizio che gli è venuto in mente di fare il timbro invisibile per non farsi scoprire dalla moglie che andava a ballare. Questa è una... Intelligente. Quindi neanche i braccialetti, neanche tutto invisibile. Quello è... E mi dò fastidio perché io volevo rivederlo quando c'è stato scritto, però non lo vedevo. Se ti prendevi la luce blu sul telefono potevi farlo. No, non potevi. Eh no, se cerca l'applicazione... Vabbè, non ce l'ho più, non ce l'ho più. Secondo me, quei pochi posti che si salvano a Milano sono i posti... A me personalmente, poi non so, quelli grandi che non fanno troppe distinzioni, nel senso tu entri, paghi oggettivamente poco, poi se vuoi spendere di più dentro per bere, per mangiare quello che è, spendi e ti diverti, magari c'è la musica, magari ci sono anche più sale con generi diversi, quindi ognuno si ascolta quello che vuole. Ma stai parlando dell'Alcatraz? Sai che ho pensato la stessa cosa? In realtà però... No, ormai siamo vecchi per quel passino. Infatti ho sentito grandi Alcatraz. Però, oggettivamente, per quando avevamo quell'età lì, ci stava. Ci stava, sì, ma sì. Esatto, cioè piuttosto che spendere... Come l'altro, il raggio. Non diciamo i nomi completi, Sara. Ah, Fabric. Sì, no, esatto, io pensavo anche al Fabric e se devo citarne un altro... No, Fabric è grande quanto l'Alcatraz. È grande almeno quanto l'Alcatraz. Sì, anche... Io pensavo che l'Alcatraz, cioè nella mia lista concerti, quelli che ho fatto a Fabric mi sembravano molto più piccoli di quelli che ho fatto all'Alcatraz. Hanno la stessa capienza. Sì, forse... Quando sono andata a vedere Serena Gomez all'Alcatraz e mi sembrava gigante, sono andata a vedere Tonalai un anno fa al Fabric e mi sembrava minuscolo. Eh, forse perché eri più piccola e quindi sei creato, sei stato più grande. Tutto più grande. Però, no, vabbè, forse l'Alcatraz con la saletta, quella sinistra, è più grande. Si aggiunge anche quella saletta... Boh, ma io all'Alcatraz adesso non ci metterai più piede, cioè non so voi. Ma infatti... È per vedere i concerti, Sara. Ah, vabbè, i concerti, ma per andare a ballare no. Eh, ma a me non... Raga, se c'è una serata in particolare, ma non sono posti in cui io mi diverto. No, nemmeno a me. Stare in mezzo a tanta gente non mi piace e quindi io non li frequento a questi posti. Solo che se devi fare serata a Milano dove vai, vai a ballare, allora fa un culo e me sto calmo. Beh, un posto che secondo me ci sta... Straight but effective. Eh, secondo me è in Magnolia. Eh, Magnolia però è un vibe diverso, cioè non è una classica discoteca commerciale. Cioè è un posto all'aperto dove ci fanno i festival. Esatto. E quindi è una situa diversa. Secondo me esatto. Lui, visto che poi c'eravamo... Volevo appunto capire qual era il preferito. Così il mio è il Magnolia, ma a mani basse proprio. Cioè perlomeno adesso. Poi secondo me anche ad esempio al fabbrico fanno una serata negli 80 che è molto bella. Però questo è il gusto mio personale, capisco, so che a tutti non può piacere. Però, però, oltre a questo, almeno una cosa me la puoi dire. Più che sulla città di Milano, sulla comida milanese, ti piace andare a mangiare almeno a Milano? Cioè ci sono... ogni tanto vai a mangiare a Milano, no? Andrea, ma tu non mi conosci. Infatti... Non mi conosci. Ma no, è vero, c'è sempre la pasta bianca. Non mi conosci. A parte che Alice è da Monza. Cioè se deve andare a mangiare piuttosto va a Monza. Cioè la pizza sotto casa vado, capito? Vabbè, un posto a Milano per mangiare, che ti piace. Cacchio, come si chiama? Cosa fa? Cosa cucina? Spagnolo, la... Ho capito. No, non è vero. La cucciucu. No, adesso te lo dico, tu di il tuo intanto. No, posso per mangiare... Il carnifero? No, è argentino. No, no, quello è il... A me piacciono quelli particolari a Milano, perché appunto sono robe che non puoi trovare in altri posti. Ad esempio, giusto per citarne uno molto molto particolare di nicchia per fare il figo, per la cucina vietnamita. Vi consiglio Vietnam Mon Amour. Molto carino, zona Maciacchini, anche quello, che vi fa la cucina buona, particolare, asiatica, davvero bella. Poi, boh, a me, io onestamente sono di stomaco buono. E poi, onestamente, c'è un altro posto che va, secondo me, approvato, se siete magari turisti, però ve lo dico dopo. Vai, vai, vai. Vabbè, è molto semplice il mio, sono i panzerotti d'Aluini. Cioè, i panzerotti d'Aluini sono la figlia del mondo. È perfetto, esci dalla metro gialla a Duomo, guardi il Duomo e vai prendere i panzerotti d'Aluini. Non hai mai mangiato i panzerotti d'Aluini? Buonissimi. Quando ero piccola facevano i miei da mangiare l'Aluini a posta. Sì, no, costano poco, perché costano 3 euro un panzerotto. Mai mangiato i piccolini. A me riempiono un boccio, già metà. Vabbè, io so che c'è Five Guys. Cioè, io so un più po' di meno. Eh, ma Five Guys. Però a nuovo posto che ho scoperto, signor Vino, top. Tutti dicono che l'app è molto buono lì. Boh, io ho mangiato, però ho aspettato un'ora per mangiare perché si erano dimenticati. No. Vabbè. Però molto, molto buono, super consigliato. Io consiglio Casa Iberica. Ah, ok, 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 già sentito. Casa Iberica top, a me piace un casino. Cioè, esci lì che c'è mal di pancia perché tutto l'aglio, almeno io, perché non digerisco l'aglio. Però... Però almeno i vampiri non si avvicinano. È capito, sì. O se no, Coraje, che è quello della moglie di Lautaro. Cioè, che è anche di Lautaro il... Ah, ok, ok, sì, sì. Allora andiamo al Bottiniero, che è quello di Zanetti. È accanto, è accanto praticamente. Fanno tutto l'angolo argentino. Ah, in Brera. Cibo preferito milanese. Cioè... Cotoletta, figa. Cotoletta? Figa. Tu Sara? Volevo fare sine fritte, proprio menù bimbi. Volevo dire la... L'happy meal dei milanesi. Menù bimbi. Io non ho un cibo preferito milanese, perché non mi sento milanese. Vabbè. Sara si sente romana, in realtà. Non è che allora se ti senti... È il faretto, lei. Senti, allora... Va a Roma, mangia la carbonara. Facciamo così. Infatti io non ho un cibo preferito milanese. Se dovessi scegliere... Facciamo fin... Non è il tuo preferito. Eh, te mi hai già detto cotoletta. Se dovessi scegliere fra cotoletta alla milanese, risotto alla milanese e polenta con... Eh, mi piacciono tutti e tre. Io li mangerei tutti e tre insieme. Ma la polenta non è di Milano. Sì, che è di Milano. Ma no, figa. La polenta taragna, vai a mangiare in montagna. Non la mangio a Milano. Sì, ma la polenta è di Milano. La polenta è di Milano. La polenta io a Milano non l'avevo presa. Solo in montagna l'ho trovata nel menù. Ok, però... Vabbè, ma tu non frequenti Milano, Ali? Non sto parlando di posti milanese. Solo di cibo, a prescindere a dove lo prendi. Quale preferisci? No, io tutti e tre insieme. Forse metterei sopra risotto alla milanese, sotto cotoletta e sotto polenta. Terzo posto. Sì, no, mangiare tipo il risotto e poi come secondo cotoletta e... Polenta fritta. Polenta di dolce. No, insieme. Le polentine fritte. No, le polentine fritte come antipasto. Buonissime. Ok, brava. Le hai risolto così. Tu come metti in classifica? La polenta non mi piace. Non ti piace? No, la mangio solo fritta ogni tanto, se c'è sopra la salsiccia che non mi piace, quindi lì è un mix che però andiamo avanti. Tra l'altro, parete, si è andate allo Spirit di Milano che fanno le polentine fritte che sono buonissime. Ma davvero? Ma anche d'estate, eh? Sì, credo. Io sono andato una volta d'estate. Sì, perché mi spornano polenta fritta, go go. Ora vado. No, sì, credo di sì. Le fanno con tipo anche formaggi, salumi così, che sono molto molto buoni. Zlurp. Esatto. Zlurperone. E cosa metti? Cotoletta prima. Cotoletta. E poi il risotto, quindi. Sì, ma senza osbus. Senza? Osbus. 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 No, nemmeno, anch'io senza, soltanto quello zafferano. Perché il problema dell'osso buco è la gremolada. No, il problema dell'osso buco è l'osso buco. No, il prezzemolo. Perché l'osso buco lo mangi tranquillamente, però come lo cuoci? Lo cuoci nella gremolada per forza, perché ci metti quella sopra. E quindi fa cagare perché sa di prezzemolo. Tu ti mangi l'interno dell'osso buco? No. Io non ce la faccio. No. No, non ce la pulisce. Te lo pulisce. Arriva. E qua è entrato Lorenzo. E vieni qua. Io penso che il programma sia da chiudere. Per questa cosa dell'osso buco. Si mangia sia la gremolada che l'osso buco. L'interno si lecca. E' il buono del risotto. Oddio, tu puoi mangiarlo. E certo. Puoi mangiarlo tutto. E' per quello che gli piace così tanto, capito? No, ma il buono del risotto all'ominalese è la gremolada ed è l'osso buco. Si è risvegliato. Perano, no, stavo facendo altro. E' tipo, sei Undertaker del wrestling che si rialza dalla gremolada. Farò gli ultimi minuti qua. Ok, perché si è arrivato il momento giusto per il quiz che devo fare ad Alice, Lori. Il quizettone. Il quizettone. Quindi che devi fare a noi. Sì, esatto. Però secondo me tu ne sai più di una, ok? È un quiz sul... Visto che hai appena detto... Lo stavo chiudendo. Cos'è che è? Los Bus, hai detto? Los Bus. Sì. Los Bus. Ok, quindi sei un'esperta di dialetto milanese. Vai a cagare. No, vabbè, proviamo, andiamo, partiamo dal facile, dai. Ok. Vai, la cadrega. Ok, partiamo dalla seconda allora. Cos'è che è la cadrega, quindi? È la mela. Brava, ok. A me non mi convince poco. Ecco, il prestinè? È il prestinaio, il panificio. Brava, ok. È il panificio. È il panificio. Non è un panificio. Il prestinè è il... È il prestinaio. È il lavoro. Vado da prestinaio. Esatto, è il prestinaio. E un altro lavoro, è il trumbè. Cos'è il trumbè? È quello del lavandino. Perfetto, l'idraulico. Il lavandinaio, cos'è? Il lavandinaio. Alla prossima. L'idraulico. Perché lei li chiama proprio così, è trumbè. Sì, sì, sì. Perché non sa la traduzione italiana. No, prestinè, prestinaio. È come quando una fa tanti anni all'estero, poi torna e fa... Come si dice che non mi ricordo? Così, esatto. Io senza essere andata all'estero, vai. Come si dice in italiano? Ha un dici meatball in italiano. Quella parola che non mi viene proprio, scusa, scusa. È che stuja. La parola di Carlo. Esatto. Balla di Carlo. Alziamo un pochino l'asticella, ma... Neanche troppo perché la sai. La shigera. Sai che è la shigera? Questa non la so. Non sai cos'è la shigera? La nebbia. La nebbia. La shigera, la nebbia. Andiamo su un modo di dire, ma molto breve. Una singola parola, che è mukela. Uh, smettila. No, stai zitta anche. Smettila. Però dicono mokala. No, vabbè, sì, è falla finita. Falla finita. Però sì, smettila va bene. No, Andre, mokala, dicono. Perché in Svizzera, italiana, prendono un po' del dialetto milanese. Cioè, tutto un mix. E dicevano sempre mokala. Mokala, sì. Però in milanese è mokala. Un po' come la claire, che è una parola milanese che deriva dal francese. Io sono stata scioccata a questa cosa. Io pensavo che Claire fosse una parola italiana. Anch'io. Io una serata itinerante. Ah, ok. Comunque. Comunque, andiamo avanti. Poco lavori con i locali. Andiamo avanti. Cos'è il ciula? Il ciula? Eh, desciula. No, no, no. Quando si dice gran grosso e ciula. Quando vedi una persona in giro... E' un babbo. Gran grosso e ciula. Sai che è? E' un babbo, no? Eh, sì. E' babbo nel senso... Sì, sì, sì. Un pirro. Un pirro, esatto. Un ostolto. Mettiamola così. Uno sciocco. Uno stolto. Che si dice gran grosso e ciula. Perché? Grande, grosso. E ciula. Esatto, perché è un omone. Esatto, un modo di dire. Andiamo quindi sui modi di dire, che ce ne sono davvero alcuni molto belli. E ti leggo il primo, se lo trovo, non lo trovo. No, ti leggo il secondo, allora. Cadrega. No, eh... Fior al dente, fior al tormente. E' la cipolla. Cosa vuol dire? Fior al dente, fior al tormente. Eh, via il dente e via il dolore. Brava. Grazie. Sono brava. Grazie, sono... Cos'è? Stai sbirciando? Stavo guardando chi è arrivato. Poi abbiamo... Sì, ma fai anche a Rory. Vabbè, io le dico entrambi. Facciamo bip. No, io sono fa solamente per difendere la gremolada. La gremolada, esatto. Ehm... Chi non si ingegna, fa la tegna. Chi non si ingegna? Fa la tegna. Oh, fa la tenda. Cos'è la tenda? No, no, è tenda, no, però... Non dico che siamo vicini, però... La tapparella? La tegna, no? La tegna fa la ragnatela. Quindi chi non si... Chi resta con le mani in mani fa la ragnatela. Lo sapevi questo? No. No, esatto. E per questo che è stato zitto a Rory. Tu lo sapevi? Non ho sbagliato. Andre, tu lo sapevi prima di leggerlo? Sì, sì, sì. Andre sa tutto. Andre è milanese. Perché a suo papà... Tu devi sapere che a suo papà è di bande nere. Non è di bande nere, allora... Sai che cosa succede? Di quarto giaro, però. Esatto. Eccoli qua. Ma direi milanese, questo lo voglio dire bene. Questo è il mio preferito in assoluto. La bocca, le minga straca, salsa no de vaca. Questa la conosci? Sentita, ma non... Cosa vuol dire? La bocca, le minga straca, salsa no de vaca. Hai mangiato tanto, quindi dormi. No, ci stava. Cioè, come idea così è, però no. E l'ultima cosa che devi mangiare è il formaggio. Esatto. Se no, ti rimane sempre l'appetito. Esatto. E quindi vuol dire questo? La bocca, la bocca, le minga straca. Straca cosa vuol dire? Oh, stanca. Brava. La bocca non è stanca, salsa no de vaca. Se non sa... Ah, di vaca. Di vaca, di mucca, esatto. Ok, ha senso. Makes sense, totally, sì. Esatto, è piaciuto questo. Molto. Poi, apprezzo l'entusiasmo. È un po' fame io. Se che è il bar la fusse? Chi è il bar la fusse? È difficile tradurli, però. È tipo il ciula, però. Il ciula, ma... È un bar la fusse, non fa un cazzo. È un... Nullofacente. Sì, sì, ci può stare. È un... Come si chiama quello del... Per di giorno. Per di giorno, bravo. Per di giorno. Vito di un per di giorno. Un ciarlatano, se vogliamo, esatto. Pensate che... Vi svelo questa chicca. Originariamente la parola bar la fusse indica che è una persona che patisce la fame, ma poi nel tempo ha assunto diverse sfumature. Taugen nichts. Eh, eh? Allora, adesso vi leggo questa. Spero di leggerla bene, questa la devo leggere. Quando il sole si volta a Andrè e il pelandrone il fai mestea. Oh, questa la sua mia nonna me la diceva sempre. Esatto. Cosa vuol dire, quindi? Quando cala il sole, il pelandrone cos'era? Non mi ricordo più. E il pelandrone il fai mestea. Il fai mestieri. Esatto. Cosa vuol dire? Che non fa un cazzo. Esatto. Quindi il concetto, il modo di... Perché non fa niente. Anche lui è un taugen nichts. Ah, ok. Dai, però cos'è? Quindi chi perde tempo durante la giornata si ritrova poi a dover fare tutto la sera. Eh, sì. È giusto. Dopo che cala. È un taugen nichts. Esatto. Amor de fradei, amor de curtei. E questo è sul calcio. No, no, non è sul calcio. Pensaci bene. Amor de fradei. Amor de fratelli. Ok, amor de curtei. E curtei non so cosa voglia dire. Dovresti saperlo. Di cortelli. Esatto. Quindi è un po'... C'è un modo di dire italiano. Pensaci. È facile. Un modo di dirsi. Due parole. Chi ti ama, chi ti infama non ti ama. Senti, Pacchi, allora. Chi ti ama, non ti ama. No, amore di fratelli, quindi amore di fratelli, amore di coltelli. Dai, qual è il modo? Non lo so, non ti viene in mente. Per la famiglia, per dire una famiglia. Chi ti ama non ti infama, non lo so. Parenti serpenti. Eh, parenti serpenti. Parenti serpenti. Eh, ma non c'entrano i coltelli. Eh, vabbè, no, sì, era per dire. Eh, io pensavo ai coltelli. Tau genit. Allora, qua abbiamo tutti i cani, men in la coa, tutti i coion, ver di la sua. Anche questo diceva mio nonno. Cosa, perché te li diceva? Perché non sono belli questi? Perché te li diceva tutti a te? Ma non li diceva a me, li diceva in generale. Ah, ok. Non lo so, non me lo ricordo. Quindi tutti i cani, men in la coa. Se che ha la coa. Con questo però comunque c'è... Ci arrivi, si capisce, dai. Eh, sì, ma tutti i cani. Eh, men in la coa. Si mangiano la coda? Men in la coa. Men in la coa, si muovono. Muovono, muovono. Cos'è che fanno? Piperi, pipi. Eh, peperi, peperi, peperi. Eh, vai avanti. Tutti i coion, ver di la sua. Vogliono dire la sua. Esatto, sì. Tutti i coion, i sciocchi vogliono dire la sua. I sciocchi. Eh, i sciocchi. I tau genitini. E cos'altro abbiamo qua? Questo ve l'ho letto. Ave l'occhio più se grande del bioce. Ave di e? Ave l'occhio più se grande del bioce. Ah, sì. A volte gli occhi sono più grandi della bocca. Bravo. Sì, sì. Diciamo, esatto. Quando prendi tipo più da mangiare di quello che puoi mangiare. Sì, sì. Esattamente. Anche questo mi piaceva mia nonna. Ed è anche un fare il passo più lungo della gamba. E visto che prima parlavamo del francese, questo detto c'è anche in francese. Avoir les yeux plus gros que les ventres, si dice. Avere gli occhi più grandi della pancia. Sì, due ore di francese. Sì, esatto. L'ho fatto. Una volta per sbaglio. Esatto. Madre lingua francese, padre disperso. Però vabbè. Niente, era... No, this was bad. Non ce l'abbiamo. Qua abbiamo l'ultima, l'ultima che vi leggo così. L'ultima perché sono i 18.59. Esatto. E inizia il derby! No, non voglio sentire parlare. La cattiva lavandera la trova mai la preia buona. Oh, questa la sapevo. La cattiva lavandaia... La trova mai la preia buona. Non mi raccordo più. La cattiva lavandaia la trova mai. La trova mai? La trova mai. La trova mai. Eh? La preia buona. La buona. Sì? La preia. Qualcosa trova? Cos'è che fa la lavandaia? Eh, lava i fazzoletti. E dove li lava? Quelli dei poveretti nella città. Nella città, fallo un'altra volta, eh. Guarda in su, guarda in giù. E quel posto... E dove? E non so come si chiama. Eh, no, beh, in un luogo. Dove? Al lago. Al fiume. Sul fiume così, ma dove li lava? Eh, al... Come si chiama quel posto lì? No, non è un posto. Su che cosa li lava? Sì, sì, sul letto del fiume. No, sul letto. Non è sull'acqua. Eh, sulla... Sì, ma su che cosa? Sulla terra, su uno sasso. Esatto. Ah, non trova il sasso buono. La preia, quindi la... La pietra. Brava. Chiaramente. Hai visto che ce l'hai fatta? Sì, sì. È stato difficile? Ce l'abbiamo fatta. Sì, sì. Vedi che un po' sei milanese anche te dentro, vero? Sì. Sì. Ti ho convinto, vedi? Vedi come mi prende in giro. Ti è piaciuta questa M qua della metro di Milano? Tu l'avevi capito che era una metro di Milano? Sì. Ah, lì c'è fa. Mettiamo la scritta metro perché sennò sembra la bandiera comunista. Questo le mi ha detto lei. Non so dove la vedeva, però è la M. È perché è rossa. Vabbè, non sono tutte rosse. Ma che è rosso, allora... Esatto. Qual è la tua metro preferita? Poi chiudiamo. Qual è la tua metro preferita di Milano? Vabbè, la rossa. La rossa? È quella che ho preso più volte. Non hai preso... Ah, vabbè, è vero, la Lilla è arrivata dopo. No, la Lilla non mi piace, non c'è manco il pilota. Vero, è troppo facile. Non è affidabile. Il pilota della metro ci sta. No, la Lilla è divertente, però vabbè, la rossa è quella che ho usato più volte, quindi... La Lilla ti fa sentire un po' a disagio, perché dici, oddio, e se succede qualcosa non c'è nessuno che può fermarla, capito? Cioè, tutto è in balia del nulla, no? Però vabbè, era un po'... E no, perché non c'è il guidatore, non c'è niente. No, vabbè, sì, ma poi quando vai le prime volte comunque che ti batti davanti è anche divertente. Cioè, diventa quasi un'attrazione, no? Comunque li vedi i bambini, le famiglie che portano il bambino e dicono, guarda là. Anche la blu è così. La blu? E non c'è stato ancora stato. Fa Milano andateva sulla Mapa Neo. Si è affermato stanotte. Poi le altre non le so. Tra affermate fa per ora, no? Il tuo posto preferito di Milano, lo chiedo a te perché lei non posso chiederlo, ma non turistico. Cioè, deve essere un posto, una Milano segreta che conosce solo te. E perché ha proprio Cinisello Balsamo? No, è il mio posto preferito di Milano, così su due piedi. Io ti posso dire il mio, che non l'ho detto prima. No, l'hai detto. No, beh, il locale preferito. Il posto preferito è Piazza Mercanti. A me piace. Non so perché. Io fumavo le prime sigarette. È intima. Poi ci hanno girato anche le scene di chiedimi se sono felice. Eh, io fumavo le mie prime sigarette lì, sì. Sì? Sì. Sì, bro. Trasgredi. Cioè, tu andavi a Milano per trasgredire. Eh, sì. A 15 anni uscivi a Milano, compravi le siga in un unico posto dove le vendevano. Poi hanno smesso di venderle anche quel posto, quindi non siamo più andati a a Milano. Poi sono diventata maggiorenne e sono tornata a Milano. Sì, tornata a Milano. Tra l'altro, quando sono andato a tirare il documentario, c'erano otto poliziotti in Piazza Mercanti che circondavano tipo una scolaresca di bambini che stavano facendo bordelli in Piazza Mercanti, però vabbè. Quindi alla fine ci hai pensato. Tipo Beccore hanno iniziato a raggrupparli. Esatto. L'hai trovato il posto? Ti è venuto in mente? Ma ti potrei dire, non lo so, più che altro una zona, no? Ah, sì, sì, sì. Quale preferisci come zona? Allora, preferisco le zone nord in realtà. Cioè, anche qua perché è un po' più casa, un po' più tutto. Una Milano che non vedi mai può essere, per me, almeno le zone un po' più sud, che vedi un po' meno. Non lo so, già una via Savona dove ho passato tanto tempo, comunque ci ho lavorato per anni. Possiamo dire dove io e Lori ci siamo conosciuti. È vero. È romantico. No, poi ci lavoro tuttora, comunque è molto lontana da casa. È una zona che comunque ho vissuto più di quanto mi sarei mai aspettato nella mia vita. Poi secondo me è una zona che mi piace particolarmente. Via Savona e Via Tortona sono due vie in cui secondo me si respira molto la milanesità, quella da milanesi imbruttito mi viene da dire. Cioè, quella molto... Fashion. Sì, esatto. Delle wix. Quella delle wix, esatto, sì. Lì, quando anche io lavoravo l'Invia Savona e facevo magari a piedi fino a Porta Genova, mi ricordo che la vivevo, la percepivo sulla pelle. Grazie mille Lori per questa chiusura che ringrazio. Mi ricordo la gremola dello suo buco, non ho scontato loro perché sennò... Ah, lei, io non ho detto niente, io sono di stomaco buono. Sì, ma hai sentito che domande mi ha fatto? Mio nonno non poteva vedere sto puntato. Ma hai sentito che domande mi ha fatto? Mi ha chiesto qual è il mio ristorante preferito a Milano. Ma lì ce l'ho mangia. E vabbè, ora, ci sarà un posto che fa la pasta in bianco, ostia. No, sì, quel posto che fa la pasta in bianco. Non mi piace. Sottiletta, solo pasta in bianco. E burro, burro. Burro, va bene. Quel posto che fa la pasta in bianco che costa un sacco, che ci mette... Alfredo? Boh, mi ricordo. Le fettuccine d'Alfredo, però non è da Milano. No, non è da Milano. Eh no. Ma non sono le fettuccine d'Alfredo. Vabbè, ma comunque lì c'è la... Burro e parmigiano, fettuccine Alfredo. Sono quelle famosissime che vedi video su TikTok. Ah, quindi a me piacerebbero le fettuccine Alfredo. Sì, però devi andare a Roma a prendertelo. O con le originali. Ok. Faremo una puntata su Roma. Vabbè. Qui va bene. Beh, Roma va bene. È un po' di giorni che sogno di andare a Trastevere. A Trastevere. Letteramente. Allora, chiudiamo la puntata su Milano con... La Fede. La Fede. La Fede. Ciao, Fede. La Fede è dispersa in quel di... Ho avuto un lapsus. Volevo fare questa cosa. Vabbè, vabbè. Hai fatto tutto te, cioè ti stavi scavando proprio... Abbiamo apprezzato lo stesso. Chiuderei con un... Dai, Roma, dai. No, scherzo. Ah, no. Uno spam. Documentario aria di derby. Siete ancora in tempo per vederci. Congraturazioni al Milan per la Champions. Congraturazioni al Milan per la finale di Champions di stasera. E niente, ci risentiamo fra due settimane. Io la sto sentendo molto. Manca poco. Manca poco. Un'ora e cinquantanove e trentacinque secondi. Cosa? Perché me lo stai chiedendo? Quasi due ore al primo gol del Milan. Esatto, esatto, sì, sì. Ma anche al secondo, sì. O al rosso di bastoni. Al rosso di bastoni per fallo su Krunic, capito? In area. Esatto, in area di rigore. Questi sono un po'... Non voglio neanche spiegartelo, voglio solo andare a soffrire in santa pace adesso. Quindi grazie mille però Alice per esserti sacrificata in questa puntata. di calcio club. No, vabbè, ci risentiamo con lei fra due settimane, con GC. Ciao. Io potremmo avere degli ospiti, però non vi dico niente. Grazie mille Lori, sponsor Uffi. Anche il cappellino non ne ho ancora preso, vabbè. Grazie mille Sara. I peminili vendiamo a 25 euro. Più IVA. Più IVA. Grazie a tutti, ciao ciao.